Ha preso il via venerdì 18 il percorso triveneto del Giro d'Italia con l'arrivo a Nervesa della Battaglia, provincia di Treviso, anticamera di una delle frazioni più dure della Corsa Rosa, quella di 175 km da San Vito al Tagliamento nel Pordenonese fino al famigerato Monte Zoncolan nell'Udinese, a 1730 metri di altezza con una pendenza del 22% e 5 gran premi della montagna. Straordinaria la partecipazione di pubblico lungo il tragitto che ha portato i corridori da Ferrara alla provincia di Rovigo, quindi nel veneziano, dove il passaggio è stato accolto da un entusiasmo che nel corso dei decenni non ha perso l'intensità e il calore di una vera smisurata festa popolare in cui ognuno di noi diventa un corridore, un piccolo tassello del grande puzzle di questa corsa davvero unica al mondo, senza volerne a Tour de France e vuelta spagnola, perché espressione di un territorio recentemente allargato al resto d'Europa e al Medio Oriente in cui pedalare diventa metafora del vivere, vivere un quotidiano finalmente onnicomprensivo senza discriminazioni, dove lo sport ritrova la sua prepotente capacità di unire e di far parlare tutti la stessa lingua, quella dell'entusiasmo di un ragazzo di 29 anni, già campione olimpico Elia Viviani di Isola della Scala alle porte di Verona, vincitore di tre tappe, scatto bruciante da fuoriclasse anche a Nervesa, tappa da velocisti tra cui Viviani ha dimostrato di essere oggi, se non il migliore e uno dei più grandi in assoluto, dalla pianura poi al monte, eccolo Zoncolan, ovvero la scalata peggiore d'Europa, prima di ricominciare da Tolmezzo verso Sappada, cioè un altro percorso tutto friulano perché quest'ultima località, ex provincia di Belluno, lo ricordiamo, è recentemente passata dal Veneto al Friuli Venezia Giulia, ancora una volta a nord-est decisivo per le sorti del Giro, corsa che nell'edizione 2018 è risultata specchio fedele del suo tempo, dove le strategie prevalgono sui valori tecnico-agonistici, fortuna che ci sono ancora gli acuti alla Elia Viviani per restituirci il valore autentico della manifestazione, ovvero fatica sui pedali, scatta e vinci, quello che chiede il grande pubblico e lo sport, in barba ad interessi, sponsor e tattica, questo crediamo sia l'autentico Giro d'Italia.